ragazzi ci vendichiamo con il mio fan anche se un po cattivo come cosa, però lui mi ha fatto il rispetto a me ora guardate cosa faccio Ah Io volo via M'è morto Aspetta Aia Eh Ok Qual è Il che posso parlare? Ora Perché sono morto? Li sono messo in create Oh sì Oh sì sì Aspettate la prima cosa prendiamo l'arco e le frecce queste poi la seconda oh yeah dove sei? dove c'è un scenario? vabbè comunque prendiamo questo come intera me in Pacifica? eh no un dispetto è un dispetto io ce l'ho messo va bene glielo mettiamo sì ragazzi anche se è stato un po' cattivo vabbè dopo appena prendo il blocco per sai cosa? ok va bene ora te lo metto dai impostazione muoviti a caricare ok allora allora cos'è che dovevo fare? ah pacifica che memoria a breve termine allora va bene solo per questo e ora iniziamo a divertirci deve trasportare non so neanche dove sei ma ma perché tu vuoi fare le impostazioni io no? c'ho il potere ma cosa? c'ho il potere del mondo ora ti ho messo in avventura ma non posso fare niente ora vediamo se riesci ma come fai? mi lasci sopravvivere come hai fatto? ma come fai? come fai? sono abbonato ma non so ne abbonato perché vuol dire ma cosa vuol dire? anti troll mi chiamavano non mi interessa dove sei? mi teletrasporto da te non può lui non può aspetta intanto cos'è che vabbè ecco lui ecco ti qua potere creativo oh yeah boom boom e ma dove sei? ti sei perso nel null aspetta ma dove sei mai finito? teletrasporto ecco ti qua no no non puoi per la ma 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 come fai? tu hai metto le impostazioni mie no 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 cos'è sta cosa? è il potere del pro ma che è il potere del pro? allora e non si può fare esplodere la TNT ciao bello ora salviamo e usciamo un attimo perché questa cosa è impossibile ora si disconnette anche lui adesso vediamo se adesso vediamo una cosa ragazzi ora ho rimesso tutte le impostazioni diverse ora vediamo se se il mio fan riesce è un fan un po' dai guarda che ti è arrivato il mondo ecco comunque non sono fai fai è true ahah è vero ora vediamo se riesci devi aspettare solo un attimo perché io mi sto arrabbiando che tu che tu cambi le impostazioni del gioco del del mondo quindi questa cosa non mi piace tanto adesso ti farò vedere che io sono un pro che non mi arrendo mai e ti distruggerò e non ti farò più cambiare le impostazioni però devi aspettare un attimo o un secondo o un minuto o no un'ora no perché è troppo intanto sei in sopravvivenza e ti ma come fai è già entrato che io non sono ancora entrato vabbè basta ok si è messo in creativo ora guarda lui non sa questa cosa ah ecco cos'è allora ora non puoi fare niente dai porta il si va bene scappa no dai si questo dice si apri i conti questo può essere ah ecco dove personalizzato ok ora vediamo se riesci a fare e rimetterti in creativo in sopravvivenza ma non perderti che poi non ti ritrovo più dai vengo un secondo si si devi venire eccomi cos'è uh eh no non se ne fa ah allora non mi ricordo neanche che cosa dovevo fare eh raga provo a metterti adesso in abbonato vediamo impostazioni ma non è abbonato allora ora vediamo vediamo se allora riesci a fare qualcosa vediamo vai prova a fare qualcosa riesci a ricambiare le impostazioni si ti sta ora ah ah eh comandi di operatore questa volta perché altre impostazioni riesci ah no quelle sono il profilo ok ah ora non riesci più però eh ti mette in avventura eh hai visto cosa impari ah l'ho messo avventura e creativo cosa hai fatto perché sei uscito dalla partita ora rientro ah rientri se funziona non funziona niente ora vediamo ok ora li mettiamo che non si che non li risponda neanche la vita che non li rinasce la vita rigenerazione naturale disattivata rigenerazione limitata disattivata no attivata forse o disattivata non lo so vabbè comunque ora va eh ora si che va eh raga ora non può fare più niente lui si proprio come voglio io ora è riuscito chi è questo se funziona chi è chi è Roger Rita è entrato qualcuno ma è entrata una tua amica nel mondo si ma chi è non lo so e tu dove sei allora io sono entrata chi è Rudy Rita vabbè è una tua amica si e perché e allora entri anche tu nel mondo io sono Dave e dove nella lista dei giocatori vediamo no non ci sei c'è solo vabbè sono vicino il pillar di ferro pillar di ferro non ci sei ma sei invisibile no ok basta ora mi sta prendendo in giro sei nella modalità game mode 3 non c'è su questo io sono qua voglio dire che adesso la tua amica cade nel vuoto eh ma tu dove sei allora io sono morto ma tu non ci sei proprio raga mi sto asciuccando dai entra nel mondo muoviti chi è che è entrato adesso tu sei entrato in una partita allora chi è questa qui chi sei chi sei vediamo se come risponde chi sei non si che sa giocare è impossibile chi sei dai chi sei muoviti rispondi ti mandi un messaggio tu dove sei allora dove sei ti teletrasporto mi teletrasporto da te allora teletrasporto eh Rusty mi sa ecco mi fa che lei è andato un attimo a magliare ma ma Rusty ma ora io sono qui ma un attimo ma tu non avevi un'altra skin eh si vabbè qua mi sembra metti la tua amica da qui no ma la mia amica è andata un attimo a mangiare ma come fossero a mangiare se sei nel mondo eh ha lasciato acceso basta mi sto asciocando ma come ha modifitto la skin si vabbè questo sono io basta raga adesso facciamo il cattivo basta ma muori ma tu dove sei chi sei sei questo quello che sta scappando da me si che sei tu no non dire bugie no e allora perché non sta fermo chi il tuo amico ma ma tu chi sei io con quello là sopra ma ecco ma non è un altro ma tu chi sei tra loro due no ma chi sei ma ok allora allora lui chi è e tu chi sei ma con di la camberry skin lei chi è rusty riz ita chi è raga ho messo in pausa un attimo ho visto lo schermo e simone ha due controller si vuole si vuole e io te li elimino entrambi te li elimino entrambi uno si salva e l'altro per la patria ma ma la patria ragazzi basta hanno abbandonato tutte e due la partita io sono rimasto molto scioccato quello che ha fatto però la prossima volta mi prendono il tablet il telefono e l'altro telefono perché io ho tre controller e lo sanno anche alcuni miei compagni lo sanno solo tb07 e turbo 2072 e possiamo concludere e per questo video è finito ricordati di darmi un bel mi piace iscriversi al canale e e simone vi saluta tra tre secondi 3 2 1 via saluta simone ah vuole mangiare vabbè va bene ciao